Buongiorno, buon sabato mattina, come sempre eccoci qui per la rassegna stampa che inizia insieme la giornata a voi, naturalmente sfogliando i quotidiani e le notizie principali che troverete acquistandoli in edicola e quindi insomma grande attenzione su un'indagine da parte di tutti e due i quotidiani che noi sfogliamo sia il Corriere Adriatico che il resto del Carlino sull'indagine della Guardia di Finanza ma prima di entrare nei particolari degli articoli guardiamo come sempre la previsione del tempo e anche il santo del giorno quindi cominciamo dall'almanaco, oggi sabato 26 gennaio è San Tommaso d'Aquino, il sole è sorto alle 7.28 e tramonterà alle 17.14 le previsioni del tempo, vediamo come si presenta questo primo giorno del fine settimana il cielo è parzialmente nuvoloso per il transito di nubi alte e presenza di nubi basse in particolare nel settore costiero e primo collinare le precipitazioni sono assenti, temperature in lieve aumento e i particolari fenomeni presenti in questo momento sono appunto le foschie i banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata le gelate mattutine, chi esce presto la mattina se ne sarà accorto lascia fuori la macchina, è praticamente un tappeto di brina per quello che riguarda invece domenica cielo parzialmente nuvoloso, nuvoloso con nubi basse nessuna precipitazione, temperatura in lieve aumento il mare è poco mosso e anche qui fenomeni particolari riguardano foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata vedete anche nella simbologia compaiono le due barrette che stanno a indicare le foschie vediamo come inizia la settimana prossima direi che tutto sommato senza nulla di particolare anche qui cielo sereno o poco nuvoloso nelle ore più calde della giornata però la foschia andrà in dissolvimento e anche per quanto riguarda le nubi nella seconda parte della giornata il tempo migliorerà nessuna precipitazione, non sono previste piogge o altri fenomeni soprattutto nevosi e anche qui foschie e banchi di nebbia di prima mattina bene questo è il tempo direi che tre giornate, due giornate sicuramente abbastanza simili iniziamo guardando il Corriere Adriatico vi porto nella pagina di apertura del Corriere Adriatico come vi dicevo ampe due le testate fanno un bel focus sull'indagine della Guardia di Finanza cresta sulle patenti, 34 medici nei guai per le visite sono stati sottratti 40 mila euro e poi nella fotonotizia sono ritratti è riportata una foto con dei ladri incappucciati che assaltano una cantina non si ferma l'ondata di furti e la banda è stata sorpresa dalle telecamere nella località di Vallefoglia e allora vediamo gli articoli che riguardano questa indagine durata che ha riguardato tre anni compresi il 2013, 2015, 2016 della Guardia di Finanza qui nel Corriere Adriatico Pesaro in primo piano ecco qua tutti i dati, i numeri e i riscontri dell'operazione fanno la cresta sulle patenti appunto 34 medici finiscono nei guai denunciati dalla Finanza per truffo a peculato ai danni della sanità pubblica un giro di 40 mila euro che ora questi medici sono chiamati a restituire da parte dell'area Vasta 1 i professionisti lavoravano in modalità di intramenia negli ospedali, negli ambulatori privati e convenzionati qui di fianco anche nello specifico le pene che il giudice può commissionare e che cosa stanno a significare l'altra pagina, quindi due pagine dedicate a questa indagine della Guardia di Finanza riguarda l'area Vasta ovvero sia come si è comportata e dice a massima collaborazione il direttore Fiorenzuolo attende gli atti della magistratura quali sono le procedure poiché regolari e quindi ecco qui riportata la procedura corretta quanto costa la visita del medico e Fiorenzuolo dice nella maggior parte dei casi penso si tratta di errori dettati dalla superficialità registrati gli abusi più frequenti sono stati registrati a Urbino qualche episodio contestato a Fano rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico perché un'altra notizia che trova spazio in tutte e due le testate è la giornata della memoria e la giornata appunto in ricordo delle vittime della Shoah e allora partiamo da quella di Pesaro sempre che riguarda questa giornata con i consigli comunali monotematici consiglio comunale al campus a Pesaro la testimonianza del prefetto questo è un giorno da ricordare sempre vedete gli alunni il prefetto Pizzi e il sindaco Ricci nel consiglio monotematico il viaggio ad Auschwitz il liceo scientifico Torelli vince il primo premio del concorso Torelli di Fano il primo concorso ministeriale una valigia per non dimenticare ieri sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Mattarella ed eccoli qua i ragazzi nella foto piccolina ma si vedono durante la loro apparizione al consiglio regionale e poi nella sala vede del teatro della fortuna perché Fano e Nonantola sono unite nel dolore per due episodi quasi simili che riguardano le due cittadine ancora cronaca nelle pagine del Corriere Adriatico siamo a Pesaro per un arresto per una denuncia fatta su tre giovanissimi dalla Polizia di Stato fermati trovati in possesso di arnesi da scasso cacciaviti pile e quindi procedevano lentamente sul rettilineo di Santa Vederanda hanno sospettito la Polizia e che li ha fermati e sono stati sottoposti a perquisizione nell'automobile sono stati trovati anche 8 grammi di marijuana andiamo a Urbino con la pagina del Corriere Adriatico si parla di turismo viaggi, lavoro e socialità è il lab è il lab accoglienza presentato ieri dall'assessorato delle politiche giovanile del comune di Urbino ed è piaciuto tanto anche alla regione noi ci fermeremo stiamo cercando altre forme di finanziamento e quindi insomma il consigliere delegato Laura Scalbi dice appunto questo coinvolti anche Gallo e Trasani l'obiettivo è ora riuscire a collegare le frazioni con la città e l'Europa andiamo a Fano nelle pagine del Corriere Adriatico vi porto la notizia che c'è in apertura montagne di sabbia e ghiaia il litorale è sotto sequestro provvedimento della Guardia Costiera ad Arzilla e Sassonia cumuli fino a 4 metri qui vedete insomma se rapportiamo più o meno l'altezza dell'operatore della Guardia Costiera con la duna che ha vicino insomma si capisce l'altezza sono dune che sono state sequestrate perché irregolari mancavano di le giuste procedure e autorizzazioni l'intervento naturalmente è stato ordinato dalla procura 1400 metri quadri di arenile sono stati sequestrati questo è il tratto che riguarda il Lido ancora su Fano si parla di scuole e di piano scolastico il cecchia Fano tutti d'accordo Mascarini insiste e anche Minari il vicepresidente del consiglio regionale dice sì l'assessore quindi in questo caso Mascarini dice la regione deve ripensarci il vicepresidente ci sono le condizioni ancora andiamo a vedere anche l'altra pagina che riguarda Fano è naturalmente sottopasso chiuso 18 volte si parla del sottopasso del Lido rimaniamo sempre in zona in zona di turismo chiaramente si parla di turismo c'è stata una riunione tra i cittadini e l'amministrazione proprio in quella zona per evidenziare le criticità in vista anche della stagione turistica dagli allagamenti alla ZTL ecco le lamentele degli abitanti del Lido e poi di spalla qui la notizia che riguarda l'addio a Jacopo decisi finalmente i funerali del ragazzo si terranno in cattedrale con il vescovo e sono stati predisposti per lunedì alle 15 appunto nel Duomo di Fano l'eseque di Jacopo Monaldi di 24 anni morto tragicamente domenica scorsa per un incidente vicino alla strada cesanense ancora nelle pagine di Corriere Adriatico facciamo anche l'escursus nelle zone vicine andiamo nella Valla Cesano questionario per organizzare tutti i servizi dell'evacuazione siamo a San Costanzo c'era una bomba che avevamo fatto vedere anche noi delle immagini anzi due ordini della seconda guerra mondiale proprio nel mezzo di un incrocio è stato fatto uno scavo dove c'è stata la bomba e adesso insomma nei prossimi giorni nel mese di febbraio verranno fatte brillare e quindi insomma tutto verrà predisposto nel modo migliore verrà appunto delimitata la zona e in questa ordinanza che tra l'altro potete trovare anche nel nostro sito Fano TV quindi riportata in primo piano l'ordinanza e la potete leggere e vedrete di che cosa si tratta telecamere intesa bipartisan si parla di sicurezza sempre nella Val Cesano Movimento 5 Stelle andiamo a Mondolfo plaudo dell'annuncio del vice sindaco per l'installazione di queste telecamere ora il gruppo Whatsapp che è regole di condotta i gruppi di Whatsapp per la vincilanza attiva dei cittadini stanno diventando insomma frequenti anche da noi sono stati fatti appeso si sta parlando anche a Fano per questa eventualità è un modo per monitorare e per stare voglio dire con le orecchie ritte da parte dei cittadini e aiutare in qualche caso anche le forze dell'ordine a individuare situazioni poco chiare Senigallia Scavolini attacca Mangialardi a lui l'industria non interessa Confindustria non approverà il bilancio comunale quindi insomma Claudio Scavolini presidente di Confindustria punta diretto sul primo cittadino a fondo sul salasso Tari e questo è il nodo della discordia rifiuti stangate di servizi code anche per il camion Lumaca sarebbe il camion insomma a soffietto ecco qua carambola a Borgo Catena nella fotonotizia è riportato un incidente alquanto spettacolare in questa località appunto violento scontro a Borgo Catena ieri mattina una Citroen C3 si è capovolta dopo l'impiatto con un'altra auto il 21enne di Ostra è rimasto illeso mentre l'altro conducente è stato portato al pronto soccorso l'altra pagina che vi faccio vedere di Senigallia parla di eventi già quasi tutto pronto il calendario è tutto pronto il calendario degli eventi di Senigallia un anno di eventi della città della spiaggia di Velluto Kermesse e Fieri si comincia con il pattinaggio sul ghiaccio inaugurazione al foro annonario la pista resterà aperta fino al 5 di marzo e qui vedete di lato riportato tutto il calendario degli eventi da qui fino al 24 di settembre prossimi andiamo nelle pagine del resto del Carlino vi faccio vedere una notizia che riguarda Pesaro la panchina tricolore vi fa pubblicità una pizzeria è stata multata con un avviso di 138 euro questa è la panchina vedete ha gli stessi colori più o meno dell'insegna l'insegna è questa è un insegna tricolore questa è la panchina e quindi insomma ai titolari è stata commissionata questa multa perché dicono i colori sono assimilabili al negozio quindi è pubblicità ma i titolari dicono non paghiamo perché riteniamo ingiusta la sanzione allora andiamo anche sulla cronaca anche qui riportata la notizia dei tre giovani bloccati con mazzette e cacciaviti denunciati denunciato questo terzetto che si aggirava così senza nessun motivo nella zona di via Bonini e poi lite tra migranti all'ex ostello per dividerli un operatore ci rimette rimane ferito l'aggressore ha accettato il ricovero in psichiatria per riportare la calma è stato anche necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri andiamo a Fano nelle pagine del resto del Carlino notizia di apertura di tutt'altro genere rispetto al corriere adriatico ex capannoni Mockycraft sono ora acquisiti dalla Profiglass si tratta di 12.000 metri quadrati coperti nella zona di Bellocchi l'industria fanese che dà lavoro a tante persone accelerazione operazione conclusa con il gruppo Ferretti IOT diverrà questo capannone un deposito azienda in espansione quella della Profiglass che cerca anche spazi per costruire nuovi insediamenti nel comune di Fano giornata della memoria Shoah Ciuffi il presidente del Professor Fausto Ciuffi che parla di Villa Emma dei rifugiati di Villa Emma un racconto riguarda 105 adolescenti ebrei rifugiati appunto a Nonantola tra il 42 e il 43 e parla a braccio di questa esperienza che ha visto questa pagina così significativa della nostra storia ecco lo vedete qui il professor Bracci mentre incanta la platea con molto loquace affabulatore il suo linguaggio ha carpito l'attenzione di tutti in questo consiglio monotematico e poi la deposizione qui nell'androne del comune della corona in ricordo anche di un altro episodio che riguarda Fano sempre in tema di solidarietà quando 150 ebrei nel dopoguerra costruirono una barca insieme ai marinai fanesi barca che poi li porterà fino in Israele in memoria di questo episodio di solidarietà così così bello della città di Fano c'è questa targa nell'androne del comune e ieri lì è stata deposta una corona dall'amministrazione comunale insieme agli studenti allora si parla anche di strade di viabilità la regione finanzi la strada le nostre idee il colgamento con peso da trave a muraglia e questa è la proposta dell'ex sindaco Aguzzi servono 50 milioni Carloni dice una alternativa valida per non ampesantire ancora la statale adriatica e anche di qui di spalla riportato riportata la data e l'orario del funerale di Jacopo lunedì alle 15 in Duomo a Fano l'ultima pagina che vi faccio vedere è la pagina che riguarda un evento che si terrà a Mondavia un evento un po' godereccio si parla di una sagra la festa del nino oggi e domani incontri ed eventi a Mondavia e a Sant'Andrea di Suasa si svolge la quindicesima edizione che vede la carne di maiale l'apoteosi culinaria massima anche una mostra mercato della fiera degustazioni e laboratori ed un'area per i bambini quindi un bel motivo per gli amanti di questa specialità gastronomica per passare un fine settimana io mi fermo qui questa è l'ultima notizia che vi facevo vedere per questa rassegna stampa del sabato Occhio ai giornali tornerà naturalmente puntuale lunedì mattina alle 7.30 buon fine settimana a tutti voi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.